Musica Neve è ancora allerta nel Fanese per quanto riguarda le condizioni meteorologiche. Intanto dall'amministrazione comunale il primo bilancio sul piano d'emergenza attivato dal pomeriggio di mercoledì 15 dicembre. Il piano neve prevede come priorità la messa in sicurezza di tutta la viabilità principale. Per cui io chiedo pazienza e pian pianino si arriverà a pulire dappertutto. Nella nostra città si circola bene. Abbiamo percorso con le ditte la viabilità principale nella giornata di ieri tre volte. Anche oggi sono ripartiti di mattina presto proprio per consentire il transito tranquillo. Le squadre di operai, sia quelli del comune che delle ditte, hanno lavorato ieri fino a mezzanotte mantenendo solo tre ditte che hanno continuato a girare con il sale. Nel totale abbiamo sparso in città 300 quintali di sale. Per quanto riguarda le previsioni delle prossime ore, io ho contatto con la protezione civile la quale ci mette nuovamente in allerta per questo pomeriggio ed anche per parte della nottata.